Grazie a tutti. Sto scherzando, sto scherzando, ok. Andavo in grosse difficoltà. No, no, sto scherzando. Sono molto contento di essere qui, scusate, in ritardo, e sono anche molto contento di seguire il mio amico e collega Enrico Rinaldi, che ha fatto tantissimi lavori con Alice e anche individualmente come studioso per migliorare l'approfondimento della conoscenza di ostia antica che è un posto veramente fantastico. Io sono un archeologo e lavoro qui da dieci anni con l'Istituto nostro, facciamo anche insegnamenti con degli studenti. E diciamo anche oltre all'archeologia, che alla fine il mondo di archeologia è talmente interdisciplinare, è talmente vasta, che può coinvolgere tantissime persone. Così forse anche posso concludere oggi tutti questi interventi con cosa facciamo con la mancanza di soldi. perché sicuramente soldi c'è e ci sono delle persone, delle ditte, delle società che sono disponibili di contribuire nei progetti seri, trasparenti, ben considerati, pensati fino all'ultimo per mantenuzione. E ci sono delle strade già aperte da programmi come Herculaneum Conservation Project, eppure anche Restoring Ancient Stabiae, che alla fine mi piace forse anche di più, perché il primo intervento è una cosa molto importante per una situazione molto drammatica. Herculano, si può dire, ha fatto un lavoro fantastico con dei soldi finanziamenti stranieri, ma anche con la sovrintendenza, e i risultati sono incredibilmente meravigliosi, vale la pena di vederli. Il grosso fattore anche era, diciamo, il suo livello di conservation, di ristauro, di togliere le vegetazioni invasive, queste sono le cose fondamentali a quel sito, e hanno fatto bene. È concluso il progetto, e vediamo che succede dopo. Restoring Ancient Stabiae, invece, è un po' diverso, se posso accennare un attimo, è una cosa che continua, ha una fondazione, ma diciamo che l'equip, queste persone della fondazione, ancora lavorano di avere soldi che continuano di fluire al sito, che anche ha, con loro gestione, eccetera, e promotion, e communication. Hanno ottenuto più turisti, ma anche più soldi, per fare questa mantenizione al sito loro, che alla fine sappiamo che è una cosa fondamentale. Senza di un continuo flusso dei soldi, ma anche senza un piano molto ben considerato, come ha sottolineato adesso Enrico Rinaldi, è tutto inutile, perché si spende i soldi qui, si spende i soldi lì, e qual è il scopo? Ci fa un progetto individuale, ma, non so, si cura il dente, ma dopo il paziente muore. Cioè, questa non è una cosa simpatica. Vogliamo gestire questi siti integralmente, e io vedo pure come un archeologo che, più che vado avanti, più che sono disinteressato in esplorazione e scavi, non totalmente. E poi, ovviamente, è ristauro, è conservation. E come possiamo intervenire, di ingaggiare più persone che vogliono partecipare, che vogliono contribuire, come individui, come università, come società, come corporate sponsors, eccetera. Così noi, in nostra esperienza, puntiamo più su quello. Vi faccio vedere un intervento che abbiamo fatto a Ostia Antica, ultimamente, e quello che vogliamo fare, e vogliamo coinvolgervi, e vogliamo veramente avere una comunità molto più ampia. Perché già, diciamo che nel mondo è facile di essere italiano con tutti questi riperti. Tutto il mondo conosce quello che avete. Dite sempre, diciamo sempre, non c'è nessun paese come l'Italia. L'Italia è una meraviglia per tutti i siti, storia, architettura, eccetera, eccetera. Purtroppo, in questo momento, il mondo, da uno sguardo molto profondo, leggendo nella mass media, quello che succede a Pompei, quello che succede qui, quello che succede lì, è drammatica. E vogliamo aiutare, partecipare nell'intervento di mantenere i siti, e la storia, il patrimonio, il bene culturale, vogliamo portare i soldi, vogliamo portare più coinvolgimento, così si può migliorare la situazione. Ok. Ok, l'Italia è un bel paese. Questo è il parco degli acquedotti. Si fa una passeggiata, si può vivere il passato in queste situazioni bellissime, paesaggistici. E c'è, al senso tempo, molto da fare. Torno a questo un attimo, ma già voglio accennarvi che come si può comunicare questa bellezza, questa storia, è, diciamo, un'immagine, nei video. Si può comunicare molto, facilmente, gratuitamente. Tutti voi, con vostre società, vostre università, avete adesso un grande occasione di partecipare nell'Instagram, Facebook, Twitter. Ma si fa in maniera mirata, si può avere tantissimi risultati. E questo è anche l'idea, che ci sono i modi in cui potete sfruttare con pochi soldi o nessun soldo per avere un risultato. Tornerò a questo, ma comunque una cosa che volevo accennare oggi è Instagram, è una piattaforma per le foto più grande nel mondo. Dovete, come individuo o società, approfondire, perché vi giuro, vale la pena. È un modo facile per connettere con delle persone dappertutto nel mondo, perché quello che facciamo è un bene culturale, è il ristauro, e tutti i lavori positivi si può dimostrare. Si può sottolineare le problematiche, si può sottolineare i lati positivi. È una grande occasione. Così qui, per il lavoro che sto facendo con la mia organizzazione, alla fine siamo stati invitati al campus di Facebook in California, dove risiede Instagram, che è stato comprato da Facebook per un miliardo di dollari, che ancora non hanno, capito, diciamo, come vogliono, hanno deciso ancora, come vogliono fare i soldi con questo Instagram. Ma comunque, già adesso è prima, è una cosa che si può utilizzare senza pagare nulla. E così, 180.000 persone hanno detto mi piace. Piace che cosa? Questo archeologo che vuole approfondire, vuole parlare con le persone nel mondo dei beni culturali d'Italia. È una cosa che si può fare e si può iniziare a crescere un'udienza. Ovviamente ci sono tante cose moderne e siamo interessati a Roma. Ma abbiamo anche tantissimi reperti già da tempo che sono in varie fasi di abbandono. Ovviamente i miei figli erano contenti, eravamo su Via Appia e potevano toccare gli agnelli. Però io provo di spiegare, ma questa è una tomba, forse non si dovrebbe lasciare gli agnelli di pascolare lì. Ma vediamo, ci sono tante problematiche. I reperti sono dappertutto, sono dentro, i alberghi, sono nelle piazze, sono sotto le case, eccetera. Sappiamo questo, voi sapete meglio di me. Sono venuto per questo in vostro paese, se non voto con gente. Ma ovviamente ci sono tante problematiche da affrontare. Ho visto tantissimi interventi dappertutto del paese e viaggio spesso, così sono andato a altri paesi per vedere quello che fanno loro. E si vede a volte bellissimi, grandi interventi, poi dopo è la mantenizione che manca. Oppure c'è, diciamo, si toglie il disturbo fisica, anche si toglie fisicamente, manualmente, e non si vede dopo, diciamo, la mantenizione. Dov'è? E poi, man mano si vede che ricresce quello che è stato tolto e viene ricoperto, diciamo, un'altra volta vi faccio vedere quello che abbiamo assistito noi. Ma diciamo che è una cosa da affrontare, alla fine, con questo tipo di intervento, questi due giorni, con il biologo, con gli stauratori, tutti insieme, perché se non si affronta questa problematica, situazione per situazione, con questo team, mirato, diciamo, il lavoro, e alla fine è un spreco di soldi, perché torna come prima. È quella visione lunga che tutti noi vogliamo, tutti noi vogliamo, e stiamo cercando, alla fine, non solo i soldi, ma anche, diciamo, metodologia, in cui si può trattare con varie voci, per avere una mantenizione totale, e anche, si pensa a, diciamo, il turismo adesso, con tutte le persone che viaggiano, o che vedono su Facebook, Google, eccetera, eccetera, come è stato attuale di questi monumenti? È drammatica, perché se uno va a un sito e le condizioni sono, a un certo livello, dice, ah, bellissimo, il paese tratta bene le sue storie, se no, diventa una cosa amaro, diventa una cosa pesante, e vogliamo evitare questo, perché questo è il momento, e la gente viene lo stesso, ma vogliamo che lasciano il paese con un stimo per il lavoro che fa il ministero, che fanno i colleghi, i restauratori, tutti gli interventi, eccetera, e ci sono molte occasioni anche di sottolineare questo tipo di intervento con social media. Si può sfruttare questi tipi di piattaforme anche per, noi diciamo, toot your own horn, tipo suona klaxon per te stessa, la gente non sa quello che fate, oppure c'è tantissimo lavoro compilato, però non è accessibile, così possiamo rendere con questo tipo di piattaforme, questo tipo di importantissimo intervento più accessibile, più, diciamo, parte della nostra vita quotidiana, e questo è che manca. Qui è un'immagine di ostia antica che ho visto questo ficus viene e va, e viene e va nelle case di cupido e ziche, e un ficus, come accennavo, Enrico, è diabolico, è una cosa che abbiamo bisogno di passare più tempo, diciamo, in posti come ostia, dove è molto problematica, molto presente di avere soluzioni più long term, perché sono molto, molto invadenti. Questo è il tempo del parco degli acquedotti, diventano difficili quando ci sono delle proprietà che sono private, ma lasciate, diciamo, questa è la proprietà del Stato, ma in un luogo con i campi di calcio, eccetera, eccetera, e quando siamo andati a indagare un pochino chi gestisce, perché non fa questo, però, alla fine, quando i rapporti non sono molto chiari, siamo lasciati con il lento progresso della crescita della vegetazione. È una cosa che si può intervenire se, un'altra volta, quelli che sono proprietari dell'area intorno capiscono che potrebbe rendere di più per loro, cioè, dobbiamo sempre pensare a come possiamo convolgere più persone possibili, più società, più corporations. Abbiamo iniziato un piccolo indagine qui dove si vedono tutti gli alberi di ficus l'anno scorso, dentro questi campi di grano e papavere, era un intervento, un'area non indagata prima e, come si vede, un'area molto lasciata del resto della città bellissima di Ostia Antica. Allora, con intervento fisico, manuale, tutti gli alberi sono stati tagliati per studiare queste strutture e, principalmente, come dicevo, sono delle alberi di ficus che hanno lasciato le tracce delle radici dappertutto questo monumento che sta in fila con il famoso Tardantico Domus di Opus Sectile che, fra l'altro, se avete tempo, c'è il Museo dell'Alto Medievo che ospita questa casa meravigliosa, tutte queste Opus Sectile decorazioni sono visibili in questo museo che sono pochi metri da qui. E questa situazione, queste strutture sono in linea con quella famosa strada, con quella famosa Domus alla Porta Marina. Così volevamo indagare ma era impossibile indagare senza togliere questi alberi che si vede in varie fasi di rimosso e alla fine abbiamo tenuto quello che volevamo è l'opportunità di uno, studio e due, dare diciamo a Ostia Antica un'altra volta un pezzo della sua storia perché è stato abbandonato e coperto con questi alberi di ficus che alla fine sono cresciuti e ci sono tante aree così all'estremità del sito non molto visitate dai turisti ma comunque sia una parte molto importante per capire la vita Ostia Antica lungo la costa. ovviamente con questo intervento si vede come invadono radici che togliere non è facile e richiede tanto sistemazione e ristauro per mettere a posto diciamo le murature e lo scopo come dicevo era iniziava con indagini e finiva e finisce con come si può mantenere questo sito come si può mantenere queste strutture e stiamo formulando con il ministro con la soppresidenza e spero anche in futuro con ales un piano di intervento così mantiene questo sito a lungo nel frattempo che stiamo diciamo pianificando perché alla fine intervento delle monumenti ma anche l'uso dei deserti che sono importanti e fondamentali per sbloccare la continua ricrescita del ficus nel frattempo abbiamo la ricrescita del ficus ma speriamo entro l'attuno di intervenire seriamente e come diceva un'altra volta Enrico è totalmente fondamentale di concordare gli interventi con la stagione perché non ha senso di intervenire quest'estate alla ricrescita di questi alberi perché diciamo in fase di crescita è meglio di aspettare quando è normale di attaccare queste radici nella stagione dopo la fase di ricrescita abbiamo qualche piccolo campione di applicazione a pennello glissofate e si vede i risultati subito che in posti dove abbiamo applicato glissofate semplice e sbloccato la crescita così diciamo che questa storia continuerà tornando adesso al discorso del social media e sponsorizzazione perché alla fine abbiamo tutto l'appetito grande e grosso per sponsor per aiuto per aiuto e non solo qui e da soprattutto nel mondo e diciamo che dall'esperienza nostra negli Stati Uniti abbiamo sempre funzionato così che se voi sapete che gli Stati Uniti non ha questi grossi interventi della Stato mai per beni culturali eccetera è sempre stata una cosa privata adesso il resto del mondo che ha avuto il beneficio di avere soprintendenza o ministeri beni culturali eccetera di fondi profondi e adesso deve anche voi e loro nel mondo cercare soldi e poi alla fine applicare i soldi ai progetti che durano a lungo perché è inutile di tenere i soldi per un progetto che dopo cinque anni ha le stesse problematiche e allora veniamo qui a questo intervento molto importante alla piramide di Cestio è positiva perché ovviamente considerano tutti i valori e diciamo ottiche per un ristauro e mantenizione a lungo per un monumento siamo molto importanti abbiamo già abbiamo saputo sappiamo della situazione del Colosseo un altro monumento molto conosciuto e alla fine è molto facile trovare uno sponsor il resto è quello che mi riguarda sono molto preoccupato per il resto non solo in Italia ma il mondo come si può aiutare quel piccolo monumento in quel piccolo paese di quella comunità come loro possono avere una sponsorizzazione eccetera eccetera ma possono e questo è quello che dobbiamo capire è molto possibile di ingaggiare i vari voci e questo sta sul nostro sito comunque tutta l'informazione e bene culturale sta sopra a sinistra conversation e a destra conversation a sinistra dialogare è conservation conservation a destra e praticamente se si aumenta il dialogo tra di noi vari professionisti con i beni culturali ristauro il biologo nel centro perché ovviamente chi sono gli esperti chi fa questo lavoro se possono diventare più una parte della conversazione che sta succedendo su facebook su twitter quante persone sono tweeting questa conferenza in questo momento chi ha mandato un tweet da questa conferenza qualcuno qualcuno ok vabbè non c'è problema vostri studenti vostri figli cosa vogliono cosa fanno stanno su social media stanno utilizzando social media avranno un lavoro tramite social media avranno un lavoro con social media questo è fondamentale se si comunica quello che state facendo che è importantissimo si può avere i risultati vi assicuro e si troverà con tutti questi discorsi se forse trovate inutile troverete sponsorizzazione troverete partecipanti troverete university partners troverete di tutto veramente e così ho fatto una una chiacchia così a stanford university e certi studiosi mi hanno detto io non ho preso dottorato per fare il tweeting va bene ma qualcuno sta succedendo molto rapidamente farà e avranno il beneficio di aver fatto quel tipo di intervento non dovete assolutamente necessariamente diventare un social media guru questo non è lo scopo è solo che qualcuno nel vostro equip qualche intern qualche student dargli le opportunità comunicate in vari modi avrete più un effetto amplificato mille volte vi assicuro e avrete lo sponsor perché lo sponsor vuole essere in vista lo sponsor vuole essere adesso è cambiato da dieci anni venti anni vogliono essere responsabili e quello che fate siete responsabili così è una grande opportunità di agganciare con piccolo paese o comunità con local sponsor o un'università oppure convolgere il liceo o la scuola elementare queste cose succedono ma si può anche di più amplificare molto di più di quello che succede adesso e in tutto quel discorso troverete più possibilità di collaborazione questo è un elenco di veri università persone che hanno parlato a nostre conferenze su questo tema che facciamo ogni anno con MIBAC e con il dipartimento di Stato statunitense e vi invitiamo anche per l'anno prossimo sarebbe bello di continuare questo discorso e questi sono i tipi di piattaforme che si può utilizzare tutto quanto non costa nulla ho visto anche una volta mi sa del ministero sì per non mi ricordo l'intervento ma un kickstarter quando si raccoglie soldi per un'iniziativa sono cose positive ben considerate dove si può anche avere risultati finanziari immediato social action un'altra cosa siamo intervenuti con il ministero per quanto riguarda questa tomba del gladiatore per dargli un'altra occasione di trovare soldi di trovare fondi di trovare altre voci per studiare le situazioni magari per avere anche i fondi per rendere accessibile diciamo per sempre questo sito molto importante in via Flaminio stiamo lavorando su quello ma abbiamo iniziato con un ipetition ci sono causes.com ipetition ci sono varie piattaforme comunque già sapete si può utilizzare questi per elevare il discorso questo è un po' più facile con Russell Crowe che è intervenuto questo tizio conosciuto ho conosciuto questa persona che sicuramente non la conoscete ma comunque ha scritto gladiatore screenplay writer che è ideato tutto e parlando così ho conosciuto lui in California e ha presentato il libro che ha fatto Daniela Rossi che ha fatto gli scavi e lui per noi per questo tipo di intervento sta parlando con DreamWorks DreamWorks è proprietario alla metà di gladiatore così un film ovviamente ha guadagnato tanti soldi ha vinto tanti Oscar eccetera eccetera così tra discorso e adesso con un paio di persone qui e lì negli Stati Uniti stiamo sulla strada di raccogliere soldi perché perché sarebbe una una cosa secondo noi positiva se questo collocamento con un film anche se è tutto un po' come si dice non inventato ma comunque ci sono collegamenti molto sottili alla fine è un buon collegamento è un buon fit e si deve trovare pure voi per interventi per il tipo di attrezzature equipaggio ci sono varie strade si può trovare per ingaggiare e iniziare il discorso spero fra un anno avremo un risultato così noi siamo solo sulla conversation per questo intervento ma vogliamo alla fine sempre quello che volete voi una conversation che diventa azione che diventa reale che fa un effetto beneficiario al sito e questo è penso tutto se ci sono domande grazie professore Aria io volevo dire alcune cose prima di passare i questionari per la vostra preparazione dopo questa prima conferenza professore Aria grazie per questo intervento che ho fatto però le devo dire che noi come ordine nazionale dei biologi stiamo abbracciando questa tematica nuova nella conservazione dei beni artistici e culturali come lei ben sa e l'ha specificato in Italia ci sono quasi 60.000 siti dove potrebbero portare risorse economiche incredibili al nostro popolo italiano per cui l'attenzione dell'ordine dei biologi con altre istituzioni e con enti privati volgerà questo fine quello di cercare di tutelare valorizzare conservare i nostri beni culturali poi cercare di dare delle opportunità ai nostri colleghi biologi in questa tematica l'unico ostacolo che ci si frappone in queste cose è che il nostro ordine nazionale dei biologi è un ente pubblico per cui certe scelte certe operatività certe cose non li può fare assolutamente informo tutti i colleghi dall'ultima riunione di consiglio dell'ordine che abbiamo fatto e informo anche il professore per quanto riguarda la nascita di una fondazione dell'ordine nazionale dei biologi la fondazione ci darà più spazio di operatività in tutti i settori non abbiamo più obblighi possiamo sempre sotto la tutela e sotto il controllo dell'ordine nazionale dei biologi cioè i nostri soldi non vengono sperperati vengono affidati ad una fondazione che ci riconoscerà quel giusto che ci spetta di diritto a noi biologi in questa materia dei beni culturali di eh aperta di sing di vengono Grazie.